eccoci al mare con il nostro mr w 200 un modello dalle caratteristiche comunque interessanti a 100 metri 10 atmosfere di resistenza all'acqua lo potete utilizzare tranquillamente in acqua di mare per nuotare proviamo di immergerlo vediamo le caratteristiche appunto in acqua non ha nessun problema resistere a un'intera giornata in acqua ecco vediamo una caratteristica l'effetto specchio certe angolazioni il quadrante scompare e sia questo effetto mirror questo effetto specchio che se noi emergiamo non c'è più ovviamente eccolo qua il quadrante una volta emersi e sempre visibile ma in acqua eccolo qua questa è una curiosità di questo modello modello divertente un modello giocoso molto meno serio delle metà dv 107 mdv 106 modello colorato se lo prendete in questa colorazione rossa molto simpatica divertente modello un orologio da godere dopo di da godere in acqua senza senza rischi senza senza pensieri per divertirsi al mare